Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia. Il titolo lo vedete un po' criptico, Forlipedia, dopo entreremo nell'argomento, vi spiegheremo di che cosa ci apprestiamo a parlare, lo facciamo con l'autore di tutto ciò, cioè Marino Mambelli, grazie per aver accettato prima di tutto il nostro invito, storico, scrittore, tante altre cose, ho qui di fianco a me una pila di libri che sono una parte della produzione di Marino. Ma entriamo subito invece a parlare di Forlipedia. Io conosco Wikipedia, che è un'enciclopedia, diciamo così, che si trova sul web, una Treccani, anche se non ne ha la valenza storico e culturale della Treccani, però che la si trova sul web. Che cos'è invece Forlipedia? Innanzitutto buongiorno, grazie per avermi invitato. Forlipedia vuole in qualche modo somigliare a Wikipedia, non ce la fa, non ce la farà mai forse. La figlia più piccola, eh? Sì, la figlia più piccola, perché Wikipedia è chiaramente una potenza, però l'idea nostra è quella di farla somigliare almeno nell'idea della collaborazione esterna. Ah, quindi... Quindi io devo digitare forlipedia.it, immagino, e entro nella vostra pagina, nella pagina di questo sito. Sì, si entra nel sito, nel sito c'è un pulsante dove ognuno può, cliccando, può partecipare all'implementazione dei capitoli dell'enciclopedia. Dentro c'è, diciamolo così in maniera un po' brutale, la storia di Forlì, immagino, dei suoi personaggi, tutto quanto. Allora, Forlipedia vuole contenere tutto quello che il forrivese vuole far conoscere agli altri, quindi per se stesso, ma anche per le città esterne, non solo per Forlì, ovviamente. Quindi all'interno questo contenitore è stato studiato proprio perché tante notizie che piccole, spicciole anche, si dimenticano nel giro di poco tempo, lì invece possono rimanere a disposizione di tutti per sempre, insomma, perché questo è un concetto. Ecco, come ti è venuta questa idea? Beh, l'idea è un sogno da tanto tempo, ci vuole un po' di conoscenza della città, ci vuole, serve decisamente un po' di faccia tosta, serve un po' di cultura, serve un po' di conoscenza. E un po' di passione, immagino, per questi argomenti, eh? La base è sicuramente la passione. Senti, adesso ovviamente è una cosa appena partita, ma c'è già qualche risposta? Come è stata accolta? Allora, dentro ci sono già 140, 150 voci e la gente ha già cominciato, abbiamo cominciato ieri, l'altro ieri, a consentire l'utenza libera per implementare l'enciclopedia, ha già cominciato a inviare dei testi, che però, devo essere sincero, non la facciamo l'implementazione nello stesso modo di Wikipedia, perché Wikipedia uno si scrive, aggiorna e poi ci sono dei meccanismi per le correzioni, per queste cose. Invece noi ancora siamo troppo piccoli e limitiamo l'accesso al privato mandando testi che poi noi controlliamo e mettiamo poi online, una volta verificati. Verificati, insomma. Ecco, queste 140, 150 voci di cui tu mi parlavi è farina del tuo sacco, dai! Ovviamente sì, è chiaro. Soprattutto la parte grossa fatta sulla grande ricerca sui toponimi dei nostri quartieri forlivesi, ecco. Tengo molto, io ho la toponomatica forlivese e all'interno di Forlipedia c'è una consistente valenza di questa conoscenza, insomma. Ecco, ci sono tutti i capitoli appunto dedicati al nome, al toponimo del quartiere dove ognuno di noi abita. Una piattaforma culturale e a politica che ospita con cura e stimoli alla riflessione e alla storia del territorio forlivesi. Così lo presenti questo sito? Sì, con stimolo alla riflessione perché il taglio che voglio dare a Forlipedia è un taglio non strettamente tecnico e enciclopedico, ma un taglio di terza, quindi un taglio più piacevole, un taglio più fruibile all'utenza. E secondo te cosa piacerà di più e cosa piacerà di meno, ammesso che ci sia qualcuno che critica di questa iniziativa? Ma è tutto da scoprire perché in questo momento io sto inserendo in Forlipedia pezzi legati al territorio più strettamente, pezzi legati a personaggi e ci sono dei momenti altalenanti e si vede i grandi interessi per il territorio, questo sicuramente. Per esempio quando ho messo in linea la ricerca sulla rotatoria di Porta San Pietro con il grande ingranaggio che è stato messo nella rotatoria, ho visto grandissimi interessi perché la gente era molto curiosa di capire il significato di questo museo a cielo aperto e che cos'era questa immensa manufattina. Senti io lo butto là perché me lo sento dentro, ma si arriverà a una Romagnapedia? Non ci potresti provare tu? È una domanda bellissima. Certo l'impegno può essere molto grosso, gravoso, però è un'idea molto bella. Tu sei un esperto del forlivese, mettetevi insieme, trovi un tuo collega cesenato, un ravennato, un riminese e ognuno dando il suo contributo potremmo arrivare a una Romagnapedia. Per la verità cominciare ad avere un forlipedia, una cesenapedia, un ravennapedia sarebbe già qualcosa di interessante. Poi una riunione, una tra virgolette, una cooperativa di queste cose sarebbe bellissima. Per arrivare a una grande Romagna la si cerca nella sanità, la si cerca nel settore amministrativo, perché no anche in quello culturale. Sì, gli appassionati di cultura in Romagna sono tantissimi, sono molto bravi, specializzati. La Romagna vive un momento culturale straordinario, anche legato alla cultura, della base, insomma, con molte associazioni che seguono appunto teatro, mostre, pubblicazioni. Ci sono tante cose in Romagna, molta produzione culturale. Molti pensano che ci sia solo l'aspetto, diciamo così, folcloristico della Romagna del passato. Non è così, ovviamente. No, assolutamente. Ci sono anche cose tecniche e quello che dicevo prima, ad esempio, il discorso dei toponimi è una cosa molto importante, tutt'altro che folcloristica, insomma. Tu sei noto, anzi direi notissimo, per la tua produzione sterminata letteraria su carta, ne ho qui solo una parte, ma come ti è venuto in mente di buttarti anche sul web? Io ho la fortuna di avere in casa l'ingegnere informatico, che è mio figlio. E lui che smanetta nel computer? E lui, il sito ovviamente è suo. Io faccio la parte culturale e lui mi dà una mano, ma tutto il sito, tutto quello che può essere legato alla collaborazione esterna, tutti i link, tutto quanto, mi affido a lui e la cosa non è di poco conto. La moglie che già doveva cazziare il figlio e che è sempre attaccato al computer, adesso c'è anche il marito. Beh, però per una moglie io penso che vedere marito e figlio che assieme lavorano a un progetto culturale sia molto bello. Sia molto bello, hai ragione, hai ragione. Senti, parliamo adesso, torneremo ancora sull'argomento di Forlipedia, però volevo un attimo parlare appunto della tua produzione letteraria, perché se c'è una cosa che mi ha colpito è che spazi da un argomento all'altro, pur rimanendo sempre nell'ambito forlivesi. Inizio con una pubblicazione che mi è cara, perché parla di pallacanestro, Libertas Pallacanestro Forlì. Questa è praticamente la storia della pallacanestro forlivesi nel periodo suo più fuggito. Speriamo che proprio adesso possano ripercorrere, magari superare quei tempi. Ecco, come ti è venuta in mente questa prima tua pubblicazione proprio di larga diffusione? Forse perché giocavi a basket. Questo è proprio il mio primo lavoro. È stata una ricerca che è durata cinque anni e mi ha dato grandissime soddisfazioni. Questo è un libro ormai oggi introvabile. Io ce l'ho, con la tua dedica tra l'altro. La gente mi incontra per strada e mi chiede se dove può andare ad acquistare quel libro. Purtroppo non ce ne sono più e l'editore che è di Imola, la Mandragora, non so se vorrà farne altri. E qui c'è la storia del basket. Ecco, tu hai detto una cosa che vorrei sottolineare a chi ci ascolta. Una ricerca durata cinque anni. C'è molta gente che scrive un libro al mese o giù di lì. Tu ci metti degli anni prima di pubblicare qualcosa. Sì, perché io do priorità al documento e anche in questo Forlipedia è e sarà caratterizzata da questa situazione particolare. Perché cerco sempre di non andare a copiare le cose che hanno scritto gli altri. Magari le cito, citando sempre la fonte, l'autore, eccetera. Ma il mio vizio è quello di andare negli archivi e quindi andare a leggere i vecchi giornali e stare dentro la notizia, dentro l'informazione realmente. Classico topo di biblioteca, insomma. Sì. Se uno vuole trovare Marino Mabelli, va nella più vicina biblioteca Forlivese e prima o poi ti incontra. Un altro testo che mi è molto caro e spiego anche perché è questo. Novecento Forlivese, anzi italiano. Ecco, prima di tutto, come mai questo titolo Forlivese, anzi italiano? Perché inizialmente doveva semplicemente essere il Novecento Forlivese. Poi invece le ricerche e la scrittura, andando avanti con i capitoli, mi sono reso conto di raccontare la storia d'Italia. Perché dentro ci sono delle realtà, quelle forlivesi, che hanno realmente fatto nel Novecento la storia d'Italia. Certo, certo. Senti, qui c'è anche dentro Teleromagna, se non sbaglio. Sì, c'è anche Teleromagna. Ecco, quindi questo, ecco perché mi è caro tra l'altro, perché è un testo questo che praticamente prende in esame, uno pensa solo i personaggi storici, politici, no, tutto. Anche l'aspetto economico-sociale, vero? Sì, sì, e Teleromagna è uno di questi, è nato a Forlì, il vecchio proprietario persiani, sembrano le origini in via Zanchini, insomma. Esatto, c'ero, c'ero. E dal di lì, ecco, che cosa, nel fare una pubblicazione di questo tipo, oltre al tempo, quali sono le difficoltà maggiori che devi superare? Magari mettere in fila tutti i tuoi argomenti, cercare documenti, che cos'è che è più difficoltoso? Ma io penso che per chi è abituato ad andare negli archivi, la difficoltà vera e propria non esista, non sia questa la difficoltà. La difficoltà vera e propria di un libro è il finanziamento, la parte economica. Ah, ecco, vedi, io salto invece quello che è l'argomento. No, io ho la fortuna di avere, di lavorare con un paio di editori che mi fanno pubblicare senza spendere. Che è già importante per uno scrittore. Sì, certo, per pura passione, perché sappiamo che oggi pubblicare è semplicissimo, non si va dall'editore, con 5.000 euro l'editore pubblica. Fortunatamente non è così per me. Poi fai anche delle cose abbastanza specifiche, molto tecniche. Ad esempio questo, per strada, appunti di toponomastica forlivese. Questo è un argomento che è molto tecnico. Che cos'è in sostanza? E sono orgogliosissimo di aver fatto questa cosa, perché è stata una mostra, questo è il piccolo catalogo di una mostra in Palazzo Albertini, in Piazza Saffi. Sì, perché oltre a chi è storico, scrittore, si è anche un produttore di cultura, ad esempio organizzando o gestendo mostre. Questa è una mostra appunto di Palazzo Albertini, fatta qualche anno fa, è la prima mostra del genere, perché in Italia non era mai stata fatta per descrivere i toponimi di una città. Cioè da cosa derivano i nomi delle strade, dei luoghi, eccetera, soprattutto... Perché case murate, ad esempio, piuttosto che fontanelle, sto leggendo, oppure Rocca delle Caminate, da cosa derivano. Ecco, qui c'è scritto tutto. Qualcosa. O qualcosa, sì, sì, tu sei modesto, ma non è così, non è così. Poi ecco un altro tuo testo che mi piace, Dietro la facciata Forlì raccontata dai suoi palazzi, perché ogni città ha i palazzi e dietro ogni palazzo c'è una storia di famiglie, di personaggi, a volte allegra, a volte tragica, immagino. Sì, questo è un lavoro, il mio ultimo lavoro, l'ho fatto assieme al Collegio dei Geometri, che è un collegio attivissimo nella cultura Forlì. I palazzi sono praticamente una scusa per poter parlare di storie, come tu raccontavi adesso. Ci sono molte storie tristi, anche la guerra, eccetera, ma anche tante storie interessanti e festose, insomma, all'interno di un libro che racconta appunto il colore di una città. Ecco, se dietro la facciata, visto che l'hai già ricordato tu, il tuo ultimo lavoro, quindi ti è particolarmente, come dire, caro, che cosa ti ha colpito di più dei palazzi forlidesi? Qual è quello che vorresti avere come tuo palazzo? Tutti, ce ne sono bellissimi, lo so. Io sono particolarmente appassionato della storia del Novecento e ci sono palazzi del Novecento a Forlì che veramente valgono la pena di andare a conoscere e a verificare, insomma. Io ho la fortuna di collaborare con Atrium, che è un'associazione riconosciuta dal Collegio d'Europa sullo studio delle architetture e dei regimi totalitari del XX secolo. Con Atrium facciamo tante cose e lo studio, ha fatto uno studio con i fini turistici e con i fini culturali, quindi studi molto importanti, ovviamente di una materia un po' difficile perché si tratta di regimi totalitari, però estremamente interessante. Ecco, io adoro, a me piacciono moltissimo gli edifici del Novecento. Gli edifici del Novecento. Parliamo adesso di due edifici che sono all'interno di questo libro. Uno non è un palazzo ma è il campanile di San Mercuriale, quindi che è ben prima del Novecento. E l'altro invece, purtroppo, è il palazzo, diciamo così, Garzanti. Dico purtroppo perché adesso in questo momento è praticamente in stato di abbandono. Ecco, parlaci un po' di queste due strutture che sono all'interno di questo libro. Beh, il campanile di San Mercuriale è lì perché racconto il suo isolamento. Una volta il chiostro di San Mercuriale era avanti 5 o 6 metri ed era pari al campanile, esattamente pari. Poi, in un momento, si decise di buttare giù tutto il chiostro. Fortunatamente ci fu l'ingegnere Giovannoni di Roma che disse no, non va buttato giù, per di più lui era un grande demolitore, però in questo caso si frenò e andò dietro all'idea romana che aveva anche Benito Mussolini, che era quella di isolare i grandi monumenti. Allora decisero, decise di arretrare la facciata del chiostro di San Mercuriale per dare più slancio, più visibilità al grande monumento forlivese che è appunto il campanile di San Mercuriale. Il campanile di San Mercuriale, simbolo della città di Forlì. E invece Palazzo Garzanti, che tra l'altro ricordiamo è antecedente al famoso grattacielo Pirelli di Milano che riprende proprio le linee di quello di Forlì. Sì, Gio Ponti ha fatto una grande opera architettonica a Forlì. L'incontro fra Garzanti e Gio Ponti ha dato modo di avere a Forlì un'opera architettonica di grande pregio come questa. Inizialmente lì doveva nascere la sede di una banca, una sede monumentale di una banca perché era il periodo fascista. Poi dopo le demolizioni delle case che erano in quel luogo l'arrivò la guerra, si fermò tutto e poi le cose sono cambiate. Ecco, quindi due monumenti che così raccontano un po' la storia di Forlì, quella antica e quella molto più recenti. Hai parlato del Collegio dei Geometri, che tra l'altro è il tuo titolo di studio di scuola media superiore. Marino Mambelli, le due città sempre sotto legge dei... Sì, qui racconto aneddoti e storie di Forlì e Cesena. Ah, questa volta ti sei spinto fino a Cesena. Spinto fino a Cesena, sì. E quali sono le storie più interessanti che emergono qui dentro? Guarda, lì dentro c'è una cosa, secondo me, particolarissima. C'è una mappa dell'Ottocento che ritrae entrambe le città assieme. Quindi era una provincia Foce, Forlì e Cesena, antelisteram. Già allora c'era questa caratteristica. Sì, perché non sempre vanno d'accordo queste due città. No, però in questo caso molto. Molto, molto. Ecco, poi parliamo un po' di architettura. Tu, ad esempio, Cesare Valli, un'altra modernità architettura in Romagna. Qui c'è come copertina, c'è proprio l'ex Gil, che proprio di recente è stato riportato, diciamo, ad un uso attivo qua a Forlì. Parlaci di Cesare Valli, di quello che tu hai trovato per riempire questo libro. Dunque, Cesare Valli innanzitutto è una mostra fatta da Atrium. Atrium è questa associazione, come dicevo prima, riconosciuta dal Consiglio d'Europa. Questa è una mostra fatta alla Gil, proprio su Cesare Valle, con Ulisse Tramonti, che è, diciamo, il nostro faro, il nostro maestro in questo caso. E' una mostra che ha dato l'opportunità di rivisitare nuovamente la Gil di Forlì dopo i restauri fatti recentemente dal Comune. Qui sto sfogliando appunto il catalogo. Si parla prevalentemente, appunto, Cesare Valli, di opere costruite, realizzate sotto il periodo del regime fascista. La Casa del Balilla di Savignano, il Collegio Reonautico di Forlì, la Casa del Fascio di Forlì in Popoli. Tu sai che recentemente, insomma, c'è chi dice che questi dovrebbero essere addirittura abbattuti. Che ne pensi di questa presa di posizione? Cervellotica, io butto là la mia personale opinione. Direi che la storia non si può mai demolire. La storia è storia e quindi che sia scomoda o che sia comoda bisogna accettarla, bisogna prenderla. Io ho delle linee completamente diverse. La mia è soprattutto quella di raccontarla e di spiegarla. Poi dire il Palazzo della Gil, la Casa del Stadio del Balilla, di Viale della Stazione a Forlì, è un bellissimo esempio di architettura del Novecento, non significa che poi la Gil facesse cose giuste. Certo, per la Gil si facessero cose giuste, esatto. Perché chiaramente quando nacque la Gil furono soppresse tutte le associazioni, perché chi voleva fare culture, chi voleva fare sport, chi voleva fare qualcosa, doveva iscriversi alla Gil. Certo. Quindi potevi fare, ma potevi farla solo lì. Quindi, al di là del discorso dell'edificio, che è veramente un edificio entusiasmante, architettonicamente, poi quello che succedeva dentro era una sorta di indirizzo politico e culturale ben comprensibile oggi, insomma. Cesare Valle è uno dei principali esponenti dello stile razionalista, se non sbaglio si chiama così, che viene studiato in tutto il mondo nelle sedi di architettura, immagino. Sì, il razionalismo è una parte importante dell'architettura del fascismo, però noi a volte pensiamo che il razionalismo sia l'architettura del fascismo, e non è così. Il luogo forlivese dove c'è l'architettura del Novecento non può essere considerato un quartiere razionalista, perché in verità i pezzi razionalisti ce ne sono due, che sono proprio quelli di Cesare Valle, dell'Agile, del Collegio Aeronautico. Tutto il resto è un'architettura eclettica, che è sempre del periodo, ma non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere con il razionalismo. A proposito, in Forlipedio, ho visto che hai scelto come foto, come immagine, quella della stazione di Forlì, proprio lì, agli anni 30, appena inaugurata, come mai? Beh, insomma, è come dire... Eccola qua. Sì, è come dire, benvenuti a Forlì, qui c'è una storia, questo è il significato... Bello, bello, bello. Senti, parliamo di quest'altro libro, abbastanza pesante, anche perché è di notevoli dimensioni, Primo Novecento e Grande Guerra, il laboratorio forlivese. Laboratorio di che cosa? Laboratorio culturale. Questo è un libro fatto nel centenario della Grande Guerra, con Giovanni Tassani, che è stato il coordinatore di questo progetto, e io ho partecipato con grande orgoglio a questa opera importantissima sotto questo anniversario, questo centenario che veniva celebrato in tutta Italia. In tutta Italia, quindi anche questa è un'opera importante che parla... Ho fatto lì un capitolo, insomma. Sì, sì, però si parla della Grande Guerra, il laboratorio forlivese, cioè anche noi sotto questo aspetto, sia del Novecento che della Prima Guerra Mondiale, insomma, siamo stati anche noi forlivesi protagonisti. Ma tu ti interessi anche di pittura, insomma, di aree. Infatti hai realizzato l'altro Palmezzano, un pittore che tutti noi ben conosciamo. Ecco, come ti sei appassionato? Allora, innanzitutto la grande mostra sul Palmezzano della Fondazione in San Domenico. Certo. Permetto che io non mi intendo di pittura questa, infatti lì è l'altro Palmezzano, cioè lì ho raccontato la storia della sua vita, la storia dei suoi figli, la storia... Da storico, non da critico d'arte. Non da critico d'arte. Ti sei interessato del personaggio e non da artista. Sì, sono degli aneddoti e delle parti salienti, importanti, storiche. Però poi, sempre legato all'altro Palmezzano, ho trovato questo piccolo depliant. A che cosa si riferisce? Beh, lì mi sono divertito molto. Sì? Sì, tantissimo. Io credo che sia importante fare le cose e divertirsi. Qui è stato un momento entusiasmante, perché ho scritto una piazza teatrale proprio su un capitolo del libro sul Palmezzano, è La Grande Rapina. La Grande Rapina è praticamente la storia riportata nel Forlivese di Vincenzo Perugia che ruba la Gioconda per riportarla in Italia. Qui c'è invece un quadro del Palmezzano che durante il periodo napoleonico fu trafugato, fu portato via e in quei giorni era in mostra a San Domenico. A San Domenico. E io, personalmente, nella piazza teatrale andavo e lo rubavo come aveva fatto Vincenzo Perugia. Eri tu il ladro. Ecco sì. E lì la regista era Loretta Giovannetti, bravissima, che ha fatto diventare carina anche la mia. Quindi sei anche attore. Adesso, la prossima volta, lo aggiungeremo sotto il tuo, nel suo sottopancia. Senti, ci fermiamo qui. Ripeto, questa è solo una parte, preponderante, ma solo una parte della tua attività. Quindi, adesso, quando magari incontrerete Marino per strada o sul posto di lavoro, sapete chi avete di fronte. Senti, la domanda mi sorge spontanea, come si suol dire. Cosa farai? Cosa sarà la prossima tua iniziativa, oltre al sito, dietro alla facciata? Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma penso che per ora il Forlipedia mi impegnerà abbastanza. Quindi sì. Il mio impegno è quello di sviluppare Forlipedia al servizio dei cittadini, perché questa è una cosa che serve a tutta la comunità. E quindi è una cosa che io ho preso con molta serietà. Quindi le ricerche vanno fatte molto approfondite. I testi devono essere fatti in un certo modo. E soprattutto, io tengo molto a questa cosa, quando ci sono immagini, quando ci sono citazioni, Forlipedia cercherà sempre di riportare le citazioni, i testi, gli autori di queste opere. Bene, allora Marino, buon lavoro. Da quello che ho capito non ti mancherà. Continua su questa strada. Io c'ho sempre questo tarlo della Romagna Pedia. Te lo affido alle tue mani. Grazie per le tante cose interessanti che ci hai detto, che ci hai mostrato. E grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato.